Sarebbe opportuno superare le polemiche, ma è anche opportuno fare chiarezza rispetto a quanto è accaduto in questi giorni. A seguito della nostra denuncia, domenica mattina come FIOM siamo stati contattati dall'ASL e ovviamente ci sono state richieste di informazioni, quelle che erano in nostro possesso sono state date rispetto a questo caso di cui si è parlato in questi giorni, fino ad arrivare a ieri sera dove il lavoratore ci ha telefonato e ci ha comunicato l'esito negativo del tampone e quindi per noi è stato un momento di sollievo sia per noi che per ovviamente molti lavoratori a cui dopo è stata in qualche modo inviata la notizia. Riteniamo che quel caso non è stato un caso isolato, ci sono stati altri, però purtroppo negli altri casi noi non avevamo un contatto diretto con le persone e questo appunto dimostra che c'è un limite nella tracciabilità della situazione. Sappiamo che anche oggi ci sono stati casi simili dove persone sono state riscontrate con temperature superiori a 37 gradi e mezzo e quindi bisognerebbe andare a capire anche perché accadono queste situazioni e sono situazioni che accadono prima di entrare in fabbrica. Quindi quella polemica di dire che è colpa del protocollo è una polemica sterile perché il protocollo norma tutto ciò che succede dentro la fabbrica. Noi dobbiamo cercare di capire invece come affrontare i problemi per quello che succede fuori dalla fabbrica e per questo c'è necessità di fare un confronto immediato e quindi se la regione, così come ha annunciato ieri, vuole convocare una riunione noi siamo disponibili a partecipare a questa riunione. Devo dire che ad oggi non c'è nessuna convocazione. Vorremmo partecipare, portare le nostre proposte, cercare di quindi contribuire a far sì che tutto si svolga nel miglior modo possibile. Questo è il nostro auspicio. Riteniamo che sia prioritario intervenire su queste situazioni, sia prioritario perché per noi è fondamentale e va messa a primo posto la salute e la sicurezza dei lavoratori. E poi c'è anche il problema per quanto riguarda quello che potrebbe accadere al tessuto industriale della Val di Sangro. C'è un tessuto industriale che è il 22% del prodotto interno lordo della nostra regione e quindi c'è bisogno di avere un intervento immediato, rapido e con dei protocolli chiari in modo tale che così tutto sia tracciabile e tutto sia gestibile.